forse un mattino andando in un'aria di vetro arida rivolgendomi vedrò compirsi il miracolo il nulla alle mie spalle il vuoto dietro di me con un terrore di ubriaco poi come su uno schermo s'accamperanno di gitto alberi case colli per l'inganno consueto ma sarà troppo tardi e io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto forse un mattino andando in un'aria di vetro è una poesia abbastanza inconsueta nel contesto di ossi di seppia perché non abbiamo il solito paesaggio arido certo ma descritto in elementi concreti reali che certo rappresentano qualcos'altro ma comunque appartengono al mondo consueto al mondo del poeta no qui abbiamo un'atmosfera completamente irreale un'aria di vetro un elemento quindi indistinto è un mattino generico in una condizione quasi di realtà ecco in queste cosa cos'è l'aria di vetro l'aria di vetro vuol dire un'aria terza limpida che non è offuscata né da nebbia né da pulvistico quindi permette di vedere quindi è un momento in cui si favorevole a una rivelazione un po' come la mattina guardiamo un garetti mattina momento propenso alla propizio alla rivelazione perché è l'inizio nuova giornata la luce che coglie quindi il poeta sente pronto quasi a una rivelazione come se per un momento tornasse il poeta fate perché vedrà anche questo futuro che è quasi una profezia un miracolo eppure quest'aria di vetro è arida quindi abbiamo sempre un motivo però di eredità perché l'aria di vetro si è terza e limpida ma il vetro non è sicuramente conforte un'aria di vetro non è un contesto confortevole il vetro è qualcosa che può tagliare e l'aria è arida il motivo dell'aridità della vita fa capolino in questa sorta di oggetto concreto anche in questa in questa poesia però siamo predisposti a un'epifania quest'epifania però si rivela nel nulla e di fatti qual è l'unica conoscenza possibile il nulla alle mie spalle ecco lui si volta e vede che dietro non c'è nulla il vuoto dietro di me queste due espressioni praticamente vogliono dire la stessa cosa ma la amplificano come se questa questa rivelazione fosse così difficile da accettare che dovesse essere razionalizzata ripetendola con un terrore di ubriaco l'ubriaco è colui che perde l'equilibrio perché gli mancano punti di riferimento ecco esattamente quello che accade al poeta nel vedere che dietro di sé non c'è nulla c'è il vuoto non ci sono punti di riferimento e provoca terrore perché perché è consolatorio pensare che dietro nell'apparenza dietro quello che che vediamo abitualmente ci sia un senso profondo il resto è quello che quello che fanno le religioni no assicurarci che dietro la vita ci sia un progetto divino un senso ulteriore ecco invece qui montale dice improvvisamente mi accorgo che l'unica rivelazione possibile è rivelazione del nulla dietro le apparenze non c'è nulla e l'importanza delle apparenze viene ribadita nella strofa successiva perché immediatamente come su uno schermo appaiono alberi case colli per l'inganno consueto l'inganno consueto è appunto il mondo delle apparenze formato da alberi case colli quindi oggetti anche qui generici che compaiono come su uno schermo questo schermo è lo schermo cinematografico dove apparentemente noi vediamo la vita vediamo delle persone vediamo degli oggetti vediamo delle avventure ma in realtà è tutta finzione in realtà è solo luce colorata quindi è nulla è apparenza è un oggetto tecnologico che però non è è molto significativo e non è neanche così inaudito perché in qualche modo ci sembra quasi di ricordare la caverna di Platone in cui gli schiavi erano così da vedere solo il riflesso degli oggetti su uno l'ombra degli oggetti su uno schermo quindi comunque mette insieme tradizione letteraria e moderna però è lo schermo appunto che rappresenta l'apparenza dietro la quale appunto non c'è nulla ecco è questo l'inganno consueto noi abitualmente vediamo questi oggetti ma in realtà non sono nulla tra l'altro notiamo che non ci sono virgole alberi case colli questa questa mancanza di punteggiatura evoca la velocità con cui tutti questi oggetti compaiono sullo schermo di gitto ma ormai è troppo tardi nonostante la rapidità in cui l'inganno consueto torna il il poeta ha capito ha avuto questo momento di illuminazione ma e cosa fa però se ne andrà zitto col suo segreto tra gli uomini che non si voltano ecco questa rivelazione sia un privilegio dell'intellettuale ma in qualche modo è anche una condanna perché lo esclude dalla società non è possibile in questo momento secondo Montale comunicare questo segreto gli uomini non accettano che dietro le apparenze non ci sia nulla appunto hanno bisogno di punti di appoggio di una sicurezza e quindi gli uomini non si voltano questi uomini che non si voltano sono gli uomini comuni che non si interrogano sul senso delle cose quindi non si voltano metaforicamente e vanno sicuri per la loro strada sono uomini con cui non è possibile comunicare questa profonda consapevolezza del nulla non è condivisibile quindi l'intellettuale rimane isolato deve stare zitto a un segreto la gran parte degli uomini sono uomini che non si voltano conformisti che non si interrogano sul senso della vita e per questo forse sono più sereni non hanno questo terrore di ubriaco ma sono anche condannati a non conoscere il senso vero e profondo del mondo grazie a tutti